Io poi sono, vi dicevo, particolarmente euforico perché stasera ho ritrovato Richard dopo due settimane. Ciao, buonasera Richard, eccoci. Fammi una bella inquadratura pure alle mie mani, no? Le mie mani che non sono quelle di... Beh, sono due mani però, due braccia, due mani. Che possono anche essere un pugno. No, sì, sì, è vero, è vero il pugno, il pugno di metallo sta ritornando, capito? No, no, tu hai detto bene, no? Io stavo seguendo le parole che hai detto a te. Cioè vi siete ripensati, pandori, arasciocolata, uova, colombe, ciombelloni, come goldoni, poi dopo hanno bevuto gli amari, i limoncelli, il vino. Hai capito che hanno fatto? Si sono ingrassati, capisci? Sono andati al cesso dieci mila volte! Dieci mila volte! Hai capito? E adesso ritorniamo a lui, no? Eh certo, finalmente, finalmente.